ciao a tutti e come sempre bentrovati bentornati benvenuti se siete nuovi sul canale siete su Cartomantic dove tutto quanto è le normand e con i Grand Jules Normand e Petit Le Normand oggi come ogni venerdì ormai è il momento di vedere come saranno le energie per la settimana in arrivo quindi quella dal 19 al 25 di febbraio ricordo sempre che sono stese rivolte a tutti senza distinzione di genere o di orientamento sapete già che per il Petit Tableau che faremo e anche per la stesa giorno per giorno che concluderà questa lettura per i Petit Le Normand useremo la carta 29 per rappresentarci tutti lo stesso la carta la grande carta di Mademoiselle Le Normand per i Grand Jules faremo appunto una stesa ad apertura per vedere una frase che possa caratterizzare la settimana e poi andremo avanti appunto con il Petit Tableau e con la stesa giorno per giorno per vedere se ci siamo persi qualche cosa stanno iniziando i corsi domenica finalmente c'è una specie di full immersion base no del Petit Le Normand ancora per coloro che mi avevano chiesto delle date pomeridiane o che magari volevano rifarlo o comunque rafforzare un po e quindi sarà domenica pomeriggio poi dopo andremo avanti col simbolo e con la prima parte dei Grand Jules a cui seguirà una seconda poi farò le stese a chiaramente poi insomma poi ce n'è sempre se si vogliono fare i corsi cosa che a me piace tantissimo sapete che per iscrivervi basta andare sul sito cliccare sull'evento e comprare il biglietto che vi darà poi il link alla riunione zoom sulla quale si verificherà si terrà la lezione mentre per le consulenze sapete già tutto altrimenti c'è scritto tutto nella descrizione del video come sempre perché quella non cambia mai bene direi che è arrivato il momento di cominciare quindi è il momento provvisoriamente come sempre chiedendo scusa lo scherzo insomma il Petit Le Normand è comunque number one sempre per me ma vediamo qual è la frase con cui iniziare questa settimana con il Grand Jules che comunque di soddisfazioni ne dà è proprio una stesa minima anche perché fare stese più grandi qua devo trovare il sistema le farò eh allora abbiamo in cuore distesa un due di quadri la solita scena campestre del bimbo che se ne va in giro su una capretta poi abbiamo l'asso di fiori che è già una carta un pochino più impegnativa ma qui abbiamo la carta del fante di fiori che insomma ci invita forse a stare attenti ad alcune cose come sempre sapete noi abbiamo visto lo stiamo notando insieme anche se ahimè io già lo sapevo che questo mazzo di carte pur essendo molto preciso nel dare i dettagli ha sempre una sorta di fondo moraleggiante no dovuto appunto all'epoca in cui è fiorito perché comunque è uscito nel 45 1845 quindi eravamo già ehm un'epoca un pochino più pesantuccia dal punto di vista del ehm dare consigli non è certo più non siamo più in epoca napoleonica comunque la frasettina c'è e adesso ce l'andiamo a vedere tutta cioè è una frase comunque incoraggiante eh dove dà dei consigli anche se vogliamo non proprio ehm come dire perfetti no nel senso che ci invita a usare anche soprattutto la seduzione o comunque le nostre arti persuasive per riuscire a uscire da un guaio per ottenere qualcosa eh che abbiamo per cui ci siamo battuti eh tanto no perché insomma andiamo al nucleo della questione qui abbiamo appunto come dicevo il bambino sulla capretta questa bella ehm immagine così bucolica simpatica eh della natura sì però questa carta fa parte del gruppo degli imprevisti no ci parla anche di un percorso eh che può essere più o meno difficile e fa uso a parte del simbolo geomantico della via appunto che ci indica questa cosa ma di un'immagine a contrasto nel senso che la nostra capretta povera innocente qui viene usato un po' come simbolo un pochino più torbido e eh contrasto con l'imo ci dice appunto che ehm l'innocenza a volte non ci fa tenere conto di ehm cose un pochino più pesanti che possono stare dietro una situazione magari più contorte magari più appunto ehm insondabili insondabili perché noi siamo questa personcina qui e ehm adesso potrebbe essere il momento in cui ci stiamo riprendendo da un rovescio no che abbiamo eh affrontato nel perseguire un'idea per seguire un risultato ce l'abbiamo fatta anche se abbiamo avuto appunto un momento proprio di passa no? andava tutto bene poi di colpa invece eh abbiamo avuto un problema siamo riusciti a a andare oltre questo problema adesso pensiamo che di problemi non ce ne siano più e ci dicono in effetti in parte è così siamo abbastanza avanti col cammino però non abbiamo finito quindi qui eh ci sarà ancora qualche piccola difficoltà dove ci viene suggerito di usare quindi c'è la seduzione ma naturalmente la seduzione non è soltanto quel tipo di seduzione si può sedurre in tanti modi anche con la propria soprattutto secondo me ma con la propria intelligenza eh convincere qualcuno a essere i persuasivi ehm e il sottotesto è se è più persuasivi se non ci si siede se non si rimane lì a dire uh come me la sono vista brutta meno male che è finita zac no qui il discorso deve essere me la sono non ho vista brutta ce l'ho fatta vado avanti che mi manca tanto così per avere quello per cui ho lottato però devo essere pronto comunque per le ultime gli ultimi ritocchi a usare fascino e intelligenza e soprattutto destrezza ehm per che cosa può essere utile questo consiglio per tutto in senso pensate soltanto ehm la più facile è sul lavoro facile da raccontare naturalmente no quindi magari si passa una serie lezione per il lavoro ehm si pensa alla fine di essere l'unico candidato rimasto e poi ci si è presente all'ultimo colloquio e si è in tre non vuol dire di andare a usare la seduzione quella no di far vedere il nostro facile non vuol dire di stare comunque pronti eh che c'è ancora un'ultima battaglia e quindi l'arma che ci ha fatto arrivare fin qui e si suppone essere la nostra professionalità e preparazione è ancora da tenere ben presente quindi non ci si siede andrà tutto bene ma non è finita quindi di restare ancora un po' con quell'energia lì no? quella del vincitore che ce l'ha messa tutta ecco non è ancora il momento di starsene fermi oppure magari si inizia un lavoro in un posto e si dice beh è andato talmente tanto bene la selezione e colloca che adesso arrivo e mi troverò benissimo ecco qui non è che dica no non è vero no? bisogna ancora dimostrare qualcosa non abbiamo finito eh per l'amore vabbè è facilissimo purtroppo o per fortuna l'abbiamo spuntata su qualcuno ehm questa persona non sia ancora del tutto allontanata quindi avremo chi eh la persona per cui abbiamo luttato con noi però se c'è una terza che girava attorno e sulla quale abbiamo avuto la meglio guardate che non è ancora qualcosa da perfezionare eh questi sono esempi naturalmente giusto per contestualizzare lo spirito di questo consiglio che evidentemente adesso vedremo se sarà possibile applicare anche al petit tableau che stiamo per fare ma mh se così non fosse tenete questa frase come la frase della settimana mh allora adesso tocca dopo il grande e il piccolo e qui sapete che è una stesa tematica quindi di solito si fa con la carta del consultante è più la carta del tema ma siccome siamo tanti io trovo che sia giusto qua sul canale lasciar scegliere eh a questa stesa se e quali carte tematiche debbano uscire in modo da capire questa settimana eh quali saranno gli avvenimenti salienti e come saranno le energie vediamo a settimana 19 al 25 inizio non difficile però inizio un po fumoso no un po un po incerto eh cose che eh magari stanno anche per iniziare e un po di confusione un po di contorni sfumati no oppure noi che vediamo c'è quella stanchezza perché non vediamo ancora bene come si stanno delineando le nostre cose è il primo taglio quindi diciamo che è come arriviamo dalla settimana eh che sta trascorrendo quindi un po di stanchezza un po di stanchezza si vorrebbero vedere già i risultati di tante cose e sembra di essere ancora all'inizio ok vediamo il secondo taglio ok vabbè insomma oddio qua a voler essere pignoli è un taglio sì favorevole perché queste sono energie diciamo ripulite energie finalmente limpide quindi se c'è stato un po di eh pesantezza che potremmo trovare anche di cui potremmo trovare traccia anche nel primo taglio no quindi ah qualcosa che ci ha fatto proprio eh penare qui c'è una ripulitura delle energie quindi alla fine questa settimana ci porterà probabilmente a una condizione di maggiore leggerezza maggiore serenità è vero però che se volessimo andare a fare propri pignoli rompiscatole ma bisogna farlo quando soprattutto con le norma che hanno mille e mille significati potrebbe essere invece una passione un po raffreddata qualcosa che si raffredda no quindi energie che si raffreddano nel senso che si ripuliscono quindi sono più leggere più trasparenti sì però c'è anche forse chissà la stanchezza non si ha poi questa grande passionalità questa settimana no vediamo adesso che cosa ci dice la stesa perché solo quella poi ci potrà chiarire infatti qui si entra un po così si ritira questo questa consultante mamma mia voglio vedere cosa c'è dopo perché sembra molto chiaro un fatto sapete che noi quando dobbiamo guardare in generale no però anche i fatti hai capito qua beh allora qui c'è proprio questa storiella qui che insomma storiella nel senso che è una tra le tante che riesce a raccontarci oggi questa stesa però questa è la prima che mi viene balza proprio all'occhio allora intanto qua stiamo covando qualche cosa c'è un'attesa c'è indecisione ma soprattutto io direi c'è proprio attesa una scelta che o che stiamo meditando di fare quindi non ci siamo ancora pronunciati oppure una scelta che stiamo aspettando una decisione che stiamo aspettando e che non ci fa essere molto gioviali nel senso che ci pensiamo in continuazione però molto bella la combinazione dei due angoli inferiori noi abbiamo la casa con i gigli quindi la casa con i gigli se lo pensiamo come famiglia è proprio il bello di stare con i familiari il bello di stare con tutti anche e soprattutto le persone anziane ma quindi i nonni se avete la fortuna anche di più i bisnonni insomma le persone la storia familiare no? in altro modo vediamo proprio finalmente un'energia come diceva il taglio proprio di energie distillate energie ripulite in famiglia quindi un clima più disteso nella famiglia alla quale apparteniamo quindi tutto sommato c'è questa non è un blocco insomma è qualcosa che si è un po' arenato perché ci sta tenendo un po' in attesa e dall'altra parte però siamo abbastanza sereni sul versante familiare con il quale probabilmente nel quale non abbiamo parlato di tutto però in generale il clima è disteso allora qui direi che quello che marca come vi dicevo è proprio un mancato incontro per cui adesso state aspettando una seconda possibilità qui come vedete qui partiamo proprio da questo questo bivio con il bouquet quindi qui c'è stata una proposta un invito qualcosa da cui evidentemente qualcuno si è tirato indietro che poi si sia tirato indietro perché non stava bene perché non poteva perché ha raccontato una palla questo noi non lo sappiamo ma vediamo che si è rivolti verso questo cavaliere quindi in attesa che il cavaliere finalmente si riprenda da questo scherzetto cavaliere che può essere anche una donna ricordatevi che è un'energia quella del cavaliere di qualcuno che viene verso di noi e abbiamo fino alla fine della settimana un clima un po' di attesa come vi dicevo anche di chiusura al mondo certo non vi rinchiuderete in convento spero di no però meno desideri di uscire di far balloria naturalmente perché si sente rispecchiato tant'è vero che qui c'è proprio il desiderio di ritrovarsi con poche persone di ritrovare noi stessi con le poche persone che ci va di frequentare quindi sia che si tratti come sembra di un appuntamento mancato di un incontro mancato di qualcosa con la persona che abbiamo nel cuore che però insomma questo andiamo a vedere l'amore potrebbe benessere ma in ogni caso quel bouquet è anche una bella sorpresa un'offerta che può venire anche sul mondo del lavoro quindi diciamo che siamo in attesa di una ultima possibilità che diamo a qualcuno che sia per lavoro che sia per amore che sia per quello che volete stiamo aspettando ci dice anche di stare un pochino non dico su chi va là però di stare pronti perché sta arrivando proprio quest'ultimo rush finale ci siamo rimasti maruccio perché cavaliere bara al momento è sembrato che come come cavaliere bara come non non arriva come non viene come non c'è no per esempio pensate se avete avuto un invito da parte di qualcuno che voi vi preparate magari anche mentalmente spero non al trucco per una settimana e poi quando la state aspettando dice no mi spiace non posso ci si resta da cani anche se è vero il motivo che ha dato per questa retromarcia ma di solito si tende a pensare che vero non sia qui non ci sono serpi quindi probabilmente avete dovuto anche fare buon viso a cattivo gioco e mettervela via però qui ci sono molte delusioni su questo passato di questa settimana dovute al cambio di programma da qualcuno che stava arrivando e ha o girato i tacchi o si è fermato a far bere il cavallo intanto voi siete qui ad aspettare fino alla fine della settimana questa cosa non sembra avere tante possibilità di sblocco naturalmente siamo tanti però poi qui alla fine si trova una soluzione quindi anche se è dura da digerire qui sembra che per la maggior parte dei casi non si sia trattato di una scusa ma di un'ottima motivazione quindi in generale quindi senza volerla applicare a un campo all'altro se state appunto aspettando una notizia decisiva che magari viene a completare una serie di buone notizie riguardo una questione o una persona e se doveva essere avrebbe già dovuto essere arrivata all'ultimo momento questa cosa si è fermata dicendo te lo dico quando ci vediamo o facciamo sapere più in là verrà contattato dal nostro incaricato ecco sappiate che nonostante questo le cose poi vanno a buon fine però questa attesa vi rende nervosa vi ha reso sospettosi e avete voglia di vedere poche persone che siano buone anche nel senso che vi conoscano bene disposte anche a sopportare un pochino i vostri comportamenti magari un po' infantili all'apparenza naturalmente sono accessi di rabbia molto molto controllata non voglio dire però lo sfogo anche per queste cose che stanno andando in questo modo potrebbe questa energia riguardare un po' tutto perché ci esce su questa linea che ci dà appunto un po' l'andamento quindi potreste riscontrare questi improvvisi rallentamenti per una situazione sentimentale e anche anche se in modo diverso sul lavoro o anche se state aspettando che vi venga pagato qualcosa eh sì adesso ti pagano scusami ti faccio sapere io e poi siete lì ad aspettare affacciati al balcone dire come ma stavi arrivando ecco c'è da appazientare ancora un po' però entro la fine della settimana tutte queste situazioni che ci lasciano un po' con la bocca aperta tanto sospeso e in qualunque altro modo vogliate dire tendono a risolversi a una settimana in cui un po' di delusione presto compensata dal risultato però c'è come se vi svegliate la mattina del 25 di dicembre dicono quest'anno Natale lo facciamo il 28 ma no ecco oppure per compiere gli anni il vostro compleanno tutto pronto per essere festeggiato e poi in realtà quest'anno l'abbiamo cambiato no? io mi chiedo sempre le persone ci saranno ci sono anzi io ne conosco anche una chi le compie il 29 di febbraio come quest'anno quest'anno va bene poi immagino che sia ancora così che si festeggia il 28 però pensate che roba no? se vi spostassero una data ecco qui venite lasciati in sospeso clopete clopete arriva il cavaliere che può essere un amante può essere un fidanzato una fidanzata può essere un datore di lavoro la comunicazione di un risultato dei soldi degli arretrati stanno arrivando dopo dopo un periodo di indecisione che evidentemente vi ha visti belli sul pezzo arriva poi no bisogna aspettare ancora un attimo questa è un po' l'energia elastico di questa settimana dove appunto dice che entro la fine però si si arriva a un risultatone quindi va benissimo se vogliamo in questo caso tenere presente quel consiglio un po' di usare il nostro fascino io qua più che il fascino secondo me direi che c'è da usare tutto il nostro autocontrollo per non perdere le speranze e la pazienza perché poi alla fine le cose vanno a finire bene e anche magari non perdere la pazienza con gli altri perché io vedo un po' litigiosetti quindi non vorrei mai no anche se c'è questa saggezza non c'è questo essere comunque controllati però poi ogni tanto qualche scatto è giustificatissimo no in cui è come se dicesse sì però insomma io ho aspettato tanto no già ecco sì è così allora la vostra lettura la nostra insomma per tutti noi a parte vedere questa grossa delusione per qualcosa che ci ha fatto magari dire ecco lo sapevo non succederà più invece poi le cose si sistemano si rientra un pochino in asse ci mangiamo un po' di tensione ci facciamo i nostri ragionamenti e stiamo in attesa quasi silenziosa scaramantica di questo cavaliere come vedete poi quello che è una chiusura temporale dell'energia su questo fronte si regolarizza e noi poi troviamo stabilità ecco perché vi dicevo non perdete la calma non è il caso sicuramente qui le cose poi si aggiustano no naturalmente però abbiamo una combinazione strana ma molto così una bella sfida da leggere abbiamo le due carte a parte quella degli studi abbiamo le carte sia del lavoro sia dei sentimenti perché abbiamo sia la volpe sia il cuore abbiamo anche la carta della casa e la carta io quasi ve la farei subito la lettura del tema della casa rispecchia veramente le tre carte che abbiamo visto del grand jour del normal perché innanzitutto uno dei nighting è proprio quello del bambino quindi se stiamo parlando di una trattativa per una casa in entrato in uscita ma anche di lavori in casa quindi se fosse che stiamo rifacendo il bagno o che dobbiamo mettere a posto la cucina insomma qualunque cosa stiamo magari anche rinnovando qua ci dicono va tutto benissimo perché abbiamo solo tre carte attenzione alla nostra passione i nostri sogni e tutto quello che finalmente si sta per realizzare dobbiamo ancora un po' coprirla di lavoro dobbiamo non mostrarci troppo contenti insomma bisogna bleffare ecco questo è un po' bleffare e non dare a vedere la nostra estrema soddisfazione per quello che sta avvenendo attorno al tema della casa per non perderci nel senso che comunque poi quando tutto sarà sistemato potremo anche fare i salti di gioia ma adesso evidentemente bisogna fare un'ultima trattativa che ben potrebbe essere quella sul prezzo perché non vedendo carte che mi segnalano criticità sul contratto potrebbe ancora essere un momento in cui trattiamo sul prezzo trattiamo su preventivi se sono lavori quindi maschera sulle emozioni e le cose andranno come vogliamo quindi se state cercando di trattare io penso proprio più sul prezzo che su altre cose sappiate che qui questa settimana visto che ci è poi uscito spontaneamente è una settimana ottima per spuntarla quindi qui si che assomiglia avete visto magari avete lottato tanto per trovare questa casa o per decidere quando fare queste opere e come dicevano i grandi adesso dite che bello finalmente un attimo bisogna bleffare un po' per finalmente ottenere quello che vogliamo quindi non caliamo la maschera subito in questo caso la volpe ci aiuta vedete che non è una carta per forza necessariamente brutta e cattiva no? è la carta della strategia ma è la carta anche del lavoro e quindi io adesso partirei da qui lo so che mi odiate perché volete tutti sentire l'amore però vado secondo come si presenta no? e perché comunque non si vive solo d'amore direte ma fatti i fatti tuoi no? sì però mi esce mi esce questa e vedo che insomma per alcuni di voi direi purtroppo la maggior parte di voi quindi diciamo che questa stesa questa settimana si occupa di chi ha problemi seri sul lavoro perché qui qui ci sono cose bruttine nel senso finisce bene non vi preoccupate guardate qui c'è che domina un'insicurezza un'incertezza proprio qualcosa che vacilla sul passato potrebbe anche essere il fatto di non poter più per esempio effettuare il lavoro in smart working o di doverlo effettuare in smart working però potrebbe anche essere non poter più fare lo stesso numero di ore non poter essere più retribuiti come prima che vi abbiano detto qualcosa del genere se si tratta di un lavoro che fate per i fatti vostri potrebbe esserci una certa penuria di clienti quindi non è un momento proprio di quelli migliori che abbiate avuto siete in attesa in questo momento comunque pronti a qualunque cosa che possa tirarvi fuori da questa energia e al momento sul piatto sembrano esserci più offerte più possibilità c'è anche la possibilità di intraprendere qualcosa di nuovo siete anche abbastanza come dire pronti desiderosi di farlo qui quello che si vede è che però purtroppo nella prima parte della settimana questo è proprio il primo pezzo di questa lettura qui un'offerta viene ritirata quindi se è un'offerta di avanzamento una proposta di avanzamento mi dicono di no abbiamo cambiato idea se magari avete tenuto in ballo due posizioni perché vi aspettavate tanto da quella che vi piaceva di più una delle due questa settimana sparisce quindi come per dirvi dovevi accettare quell'altra no? oppure un cliente che dice grazie non ho più bisogno una nuova opportunità che sfuma inizio della settimana vi fa sentire un po' avviliti fortunatamente qua vi sta dicendo non tutti i mali vengono per nuocere quasi quasi quello che ti rimane dicono è quello che ti porta più fortuna e di fatti quello che succederà è proprio che dopo questa brutta notizia arriva una nuova che vi fa saltare di gioia quindi mi immagino che se è qualcuno che si tira indietro nel mondo del lavoro nei vostri confronti arriva una nuova proposta migliore se vi hanno detto no con l'aumento arriva magari se non un aumento uguale o superiore e vi arriva la possibilità di andare da un'altra parte cioè qui c'è proprio il nuovo che vi dà una possibilità da cogliere al volo potrebbe anche essere una persona che subentra chi vi ha dato picche o qualcuno che smentisce appunto la prima persona assolutamente sì certo è una settimana in cui dopo tanto tempo di attesa chi è in cerca di lavoro questa settimana non ha sicuramente problemi a trovarlo trovarlo come vuole quindi anche se la stessa tematica del lavoro vi riconosce le difficoltà vissute in passato riconosce anche che può esserci un inizio non tanto gratificante ma ci dice che da questo primo momento di difficoltà si va molto rapidamente verso un miglioramento vistoso con nuove opportunità secondo quello che noi desideriamo quindi anche se per esempio volete passare a un part time o il contrario da part time volete passare a full time io non credo che all'inizio di questa settimana avrete buone notizie come minimo non ve ne parlano non riuscite a tornare sul discorso poi però sarà più verso la fine tipo giovedì venerdì arriva una nuova opportunità fulminante bellissima che vi fa dire vabbè tutto sommato meglio così non è un accontentarsi meglio così può essere sia lì sia da un'altra parte magari una come si dice un'opportunità altrove d'altro canto vedete che qui uno dei due knighting è proprio la frusta e l'altro è il cavaliere potrebbero venirvi a proporre di andarvene altrove cosa che potrebbe comportare magari qualche discussione sul posto di lavoro attuale però valuterete bene e se stiamo a questa stesa ci sarà la forte possibilità di cogliere questa occasione al volo qualunque essa sia e di andare a stare meglio oppure di ricredersi se abbiamo appena detto tu guarda che brutte notizie mannaggia e invece arriva subito qualcosa subito verso la fine della settimana che ci fa ricredere quindi arrivano arrivano proprio con questo questo cavaliere se fosse se fosse un cliente che stava arrivando e se ne va ne arrivano un nuovo che è meglio cioè qui la stesa si legge con diversi soggetti ma l'energia come sapete è sempre la stessa no? se è un socio che si allontana ci sono nuove trattative importanti o per andare avanti per i fatti vostri o magari chissà per un nuovo socio bambino che è anche meglio quadrifoglio no? qui addirittura cioè il tema della stesa è non t'accorgi ma meglio così al momento ci resti male ma meglio che succeda questa iniziale situazione di perdita questo per tutto perché poi alla fine è meglio ciò che arriva dopo come cosa nuova quindi per il lavoro un po' impegnativo all'inizio male poi non va anzi come dire meglio così ma veramente quindi casa l'abbiamo già detta il lavoro direi che termina volevo solo farvi presente che se oltre al lavoro lavoro no? mettiamo dentro anche che è lavoro anche quello possono essere gli hobby o tutti quei lavori che hanno a che fare con l'arte che si lavora lo stesso però che sono più facilmente rappresentati dalla luna qui una sensazione di instabilità in questo caso è instabilità come spesso purtroppo accade quando un lavoro legato all'arte arriva una proposta che trasforma questa attività in un lavoro che ci piace tantissimo quindi anche qua insomma è mozza di testa come si dice sta stesa io vedo sviluppi più da giovedì in avanti però ognuno poi deve considerare tante cose ognuno la propria stesa personale e qui grazie al cielo siamo tantissimi quindi non possono essere tutti uguali fatti diciamo che però c'è bello questa cosa qui questa questo recupero dare l'energia un po' cupe per chi si dedica al mondo dell'arte in arte c'è tutto quello che fa arte quindi non è soltanto arti figurative ma anche arti spettacolo arti l'arte è l'arte e basta come volevate e come sicuramente voglio anch'io perché sono curiosa visto che quel cavaliere poteva essere anche una persona andiamo a vedere che cosa ci dicono per l'amore e per l'amore sono carte che non è che fanno molta differenza rispetto a quello che abbiamo visto qui partiamo da una situazione sicuramente positiva la luna con la casa la casa con il quadrifoglio come per dire che per tutti coloro che hanno una situazione soddisfacente io direi che questa settimana c'è comunque perché anche giusto sennò poverino chi è single chi ha le cose che vanno bene si sente dire voi non ci interessate e invece qui c'è l'occasione di migliorare ulteriormente almeno a livello proprio di passione e di divertimento con il partner e potrebbe esserci addirittura una richiesta no una proposta chiaro se le cose rendono possibile altrimenti una dichiarazione di intenti quando potremo mi piacerebbe passare la vita con te ecco qualcosa del genere oppure quando potremo mi piacerebbe uscire allo scoperto perché al momento non lo possiamo fare cioè qualcosa che vi riempie di soddisfazioni e anche di certezze e di sicurezza che male non fa e siamo davanti a tante situazioni invece che rispecchiano questa prima riga no e che è proprio eh quell'attesa che è stata spasmodica dopo aver lottato per qualcosa poi stava arrivando e ha cambiato strada si è fermata a bere un caffè e quindi da un'altra parte quindi stiamo ancora aspettando e siamo un pochino arrabbiati questo può essere sia un fatto proprio di moto a luogo quindi stavate aspettando qualcuno e fisicamente e poi è andato in fumo ad appuntamento può essere anche invece un moto figurato no finalmente stava decidendosi a fare un passo e poi ha cambiato discorsi adesso sono qua che aspetto di rivedere questa persona fortunatamente siccome è una stesa insomma ben organizzata il Petit Tableau le energie non cambiano quindi qui si ci dice che resterete in attesa anche un po' musoni per un po' ma poi anche se filtrato il tutto da una certa strategia così come va bene a chi non ha problemi di coppia va bene anche a chi invece questo problema lo sta vivendo per altri motivi quindi se speravate stava arrivando finalmente la dichiarazione si stava buttando gli stava dicendo che ed era magari il primo appuntamento alla luce delle nuove eh delle sue nuove dichiarazioni confessioni e siete rimasti lì appesi in attesa che arrivasse beh questa volta l'occasione non se la fa mancare quindi dentro fine settimana si risolvono le cose anche se doveste aver litigato perché magari vi siete sentiti vittima di eh insomma un bidone perché ci avete pensato che fosse qualcosa di un po' massacrone invece no non vi preoccupate che eh siamo davanti proprio alla ripresa una ripresa alla grande ehm se naturalmente eh state aspettando che qualcuno torni quindi non che faccia un passo avanti ma che torni allora ehm qui non come abbiamo visto non state aspettando questa settimana qui è qualcuno che avete già ritrovato qui si parla di qualcuno che avete già ritrovato e che dovevate incontrare è probabilmente andato a pallino tutto anche qui usando astuzia e seduzione qui è l'altra persona che lo fa quello che ci diceva del grand jeu alla fine si produce questo incontro si produce questo contatto eh vi vedete vi incontrate insomma quello che avete in programma e che è andato un po' a farsi benedire si ha questa benedetta seconda opportunità che direi di non lasciarvi scappare ecco questa non è la settimana giusto per vederla a contrario non è la settimana in cui tenere troppi bronci non ci cioè aspettate dopo semmai no siete imbronciati perché si è inceppata una situazione tra le tante che ho fatto come esempio e adesso alla fine della settimana con grave ritardo con il vostro sospetto con tutto quello che avete vedete c'è la possibilità di dare una seconda opportunità a questo sviluppo quindi di incontrarvi di recuperare ciò che è andato a farsi friggere eh fino alla settimana scorsa non fate a destra consiglio eh non dite no questa volta non posso io ecco eh semmai tenetevi perplessità e esternazioni per dopo ma qui è proprio da acchiappare al volo questa questa opportunità anche se magari l'orgoglio vi farebbe dire no sai che c'è adesso non posso io eh se proprio non vi costa niente io vi direi di dare una possibilità a questa persona quindi è un ritorno che è già in atto manca solo un incontro è un appuntamento importante o comunque una cenetta magari pure solo un caffè con qualcuno che stava per arrivare non è arrivato adesso siete arrabbiati siccome ecco torna questa possibilità lasciategliela perché è importante ehm magari anche solo un ha telefonato magari anche qualcuno che aveva preso a scrivervi stavate chattando la cosa stava eh andando a dei livelli alti e poi di colpo è sparito adesso ritorna a scrivervi non fate voi no non ti rispondo più perché così impari avete sempre tempo per farlo però vi do questo consiglio perché qui viene proprio ehm segnalato ehm quanto sia importante dare e raccogliere questa occasione no a chi ehm per mille motivi ehm recentemente ci ha fatto attendere per via di un ripensamento o di un contrattempo ascoltate poi se volete dopo potete fare quello che vi pare però il mio consiglio è quello di ascoltare quello che ha da dirvi ehm bene che altro beh insomma innanzitutto io guardo anche la carta delle amicizie perché succede qualcosa di molto bello eh succede che qualcuno che avete bloccato qui è proprio ma che non riuscite a dimenticare qui parlo di un amico o di un'amica eh avete proprio bloccato e a lungo tempo non l'avete più voluto sempre per lungo tempo sentirne parlare ehm ancora lì che vi aspetta ci sarà un incontro secondo me questo è più un incontro furtuito che un incontro voluto però tutto può essere e si passa da un litigio forte a una far pace far pace e finalmente ritrovare la persona di tanto tempo fa e so che starete chiedendo ma per forza deve essere un amico non può essere un ritorno certo che può essere nel senso che se è una persona con cui eravate rimasti in buona poi però avete ritigato anche dopo aver avuto una relazione eravate rimasti amici avete ritigato e beh questa è la storia non vedo io qui il era l'amore della mia vita ci siamo presi a pomodori e adesso lo rincontro e finalmente si chiarisce tutto e ritorniamo insieme non è questa la storia può essere stato anche la vostra fiamma in passato ma qui quella che si ristabilisce è sicuramente l'amicizia poi se c'è anche dell'altro qua non lo vedo insomma qui è tutto concentrato su queste occasioni mancate questa è la settimana dei recuperi di occasioni e di chiusura a contratti direi no? quindi o di qua o di là date questa opportunità a qualcuno che vi ha tenuti un po' per aria e poi deciderete sono felice di aver visto che comunque anche per le coppie dove va tutto bene c'è un miglioramento succede qualcosa perché sennò che barba sennò poi dopo queste coppie si ritrovano tranquille per cui non va tutto bene furia di annoiarsi e vi dico anche che capita raramente che esca però ci sono momenti molto belli per le coppie clandestine e soprattutto quelle che non riescono ad avere una frequentazione regolare che hanno magari anche dovuto appunto per quello escono rinunciare a un incontro però ci sono bei momenti vissuti insieme ci sono anche piani iniziare a progettare se quello che volete naturalmente di una vita insieme alla luce del sole bene allora questo era grossomodo quello che succede questa settimana poco non è neanche questa volta volevo dire comunque che con la costanza gli studi vanno bene basta però ci vuole costanza perché non dormite sugli allori che c'è ancora da fare un piccolo step lo diceva anche il grand jeu quindi se sono andati bene i recuperi se sono andati bene gli esami se è andato bene uno scritto dovete fare l'orale mi raccomando non abbassate la guardia continua ad essere andato tutto bene siete stati molto bravi ma manca ancora un pezzettino come mancava la parte finale della SESA 9 del tema degli studi quindi non ci stiamo inventando niente però comunque il clima è buono allora adesso andiamo a vedere giorno per giorno ok e questo è proprio a parte il recupero sugli studi ma questa energia che è sul fondo che è tanto importante era nel nostro petit tableau perché svettava nella prima riga è proprio la ricompensa per qualcosa che ci stiamo tenendo dentro magari anche un po' di ruggine se qualcuno ci ha dato buca ma insomma e questa è proprio un'energia di compensazione per tutte le cose che ci stiamo tenendo dentro sono molto contenta che sia uscita come energia di fondo un po' meno contenta ma insomma da qualche parte bisognava lasciare andare che non sia nelle nostre estese giorno per giorno sono i nostri mazzetti perché perché comunque sapete che io inizio a fare poi il conto di dove sono le brutte carte allora si è ora di cambiare il mazzo mi dispiace un sacco allora vediamo subito lunedì smesso lunedì ricarica infatti la stesa oh ma come chi è che bloccate chi è che state bloccando qui no ve lo dico io che cos'è che si blocca qui qui c'è proprio lunedì lunedì rischio bidone qui qualcosa che da tempo stavate aspettando la rinascita no la passione i sogni no dai arriva il cavaliere e vi dice di no questo è proprio un rimandare difatti se andiamo a vedere il loop che si crea con il mirroring questa è ricomincia e ricomincia qui è qualcosa che si è rimpallato per un po' certo può anche anche voglia dire che qui era ripresa una conversazione con qualcuno che invece vi viene poi a dire che non vi vuole parlare più quindi può essere anche una comunicazione di questo tipo io non la vedo così però effettivamente può anche essere secondo me qui è proprio guardate l'hype che c'è la ripresa la preparazione la rigenerazione le emozioni il cavaliere che però vi dice non se ne fa niente il cavaliere può essere anche una donna può essere un qualcuno chiunque sia che vi dice in questo momento no chiuso se ne riparla quindi lunedì già è lunedì e quindi non ci piace lunedì è un po' una giornata di attesa per niente quindi non vi trovo benissimo lunedì però poi allora però poi 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 allora guardate che qui intanto ritrovate questo amico questa persona la trovate in un ambiente familiare potreste trovarla a casa di amici potreste trovarla beh insomma si fa in fretta in biblioteca e in agenzia di viaggio sapete che le norme sono super super declinabili e versatili c'è proprio una nuova ondata di complicità con una persona che non avete dimenticato e con la quale si ristabilisce pesci nave un rapporto io lo so che voi volete sapere anche qui ma non può essere quel ritorno là allora se qua vogliamo proprio proprio in questo caso prendere in considerazione la possibilità che si tratti di un ritorno di un vecchio amore deve essere un vecchio amore deve essere qualcuno che si vi riaccende la scintilla quando lo vedete ma non è qualcuno che state aspettando non è qualcuno per cui cioè non è qualcuno che torna per amore è qualcuno che rincontrate e per cui avete provato amore in passato magari avete aspettato questo ritorno a lungo e non c'è mai stato però questa è proprio una coincidenza questo per chi ci crede insomma quindi valutatela con molta attenzione ma certamente non è il ritorno della persona con la quale avete rotto e finalmente non è così qui è un'altra cosa qualcuno che non vedevate non sentivate a tempo probabilmente già ci aveva segnalato il petit tableau c'è stato qualche problema in passato perché aveva seguito la barra e la frusta quindi potrebbero esserci stati dei litigi qui non vengono segnalati qui viene proprio detto che arriva qualcosa di forte nel rincontrare qualcuno in un luogo x che può essere qualunque ma sicuramente non è qui ve lo dico non è un incontro premeditato è proprio un incontro che avviene perché deve avvenire ed è con qualcuno appunto che appartiene al vostro passato e con cui si ristabiliscono delle energie positive si supera quello che c'è stato poi può essere più o meno grave naturalmente non è stato grave si migliora quello che già c'era tra di voi altre interpretazioni insomma che abbiamo proprio la carta dell'amicizia quindi può essere anche il partner di lunga data che si dà una svegliata quindi qui c'è anche quella bella lettura che abbiamo visto nel petit tableau dove finalmente anche chi ha una vita sentimentale soddisfacente sente qualche novità qui è un rapporto che va felicemente anche se fosse clandestino anche se fosse tenuto nascosto oppure parliamo di persone che ormai non hanno più niente da dimostrare a nessuno perché il rapporto è sereno tranquillo e consolidato vedete che c'è comunque una spinta di energia yang che porta a uno shift positivo quindi qualcosa di bello che succede se poi lo combiniamo qua può essere anche una proposta bella all'interno di una coppia di lunga data dove c'è un po' più di passione un po' di novità un po' di sorpresa un po' di qualunque cosa che possa risvegliare un po' i rapporti comunque come dicevo certo anche a chi va tutto bene le cose possono sempre andare meglio non escono mai queste cose questa settimana invece si si vede che è veramente notevole guardate che qui succede qualcosa di bello di nuovo però insieme a questa volpe io faccio fatica a vedere questa volpe come la carta del lavoro perché comunque il nostro cuore di stesa è lì quindi una novità che può ancora ha delle potenzialità enorme una novità di qualunque tipo sulla quale si sviluppa lo smascheramento di una falsità o di qualcuno di falso quindi sono le potenzialità che riprendono vita dopo aver levato un ostacolo di questo tipo però siccome è sempre bene dubitare quando ci sono due possibilità io ho detto la novità potente e promettente che va avanti dopo che togliamo un ostacolo da parte di qualcuno ma se invece volessimo considerare questa carta come quella del lavoro e sempre se per caso aveste dei dubbi sul lavoro che state svolgendo adesso nel senso che avete in mente un'idea nuova qui è proprio lascio il lavoro e faccio spazio vedete perché se la falce mi taglia questa carta la stesa diventa così e quindi c'è una spenta enorme verso qualunque tipo di nuova iniziativa è chiaro? ecco perché lo dico certo qui potrebbe benessere le speranze lavorative come no così come invece potrebbe essere una persona falsa che cerca di portare via le speranze a voi e quindi è bene levarla di mezzo come si fa guardate quando è così comunque non c'è da fare mai niente perché è un'immagine brutta macabra che a me non piace però è come se la volpe stessa cadesse in trappola queste trappole orribili che si usano per le volpi no? quindi se fosse da lasciare il lavoro niente di più probabile che invece magari voi avete già dei vostri sogni qua vi dico non sapete se lasciare il lavoro o no e vi dicono guarda qui non c'è più posto per te e invece di rimpiangere la cosa voi avete già pronto una nuova opportunità è più o meno quello che è uscito nel Petita Blue così come insomma se si tratta di qualcuno che vi sta un po' tra i piedi qui si leva dai piedi da sola quindi non dovete andare a fare chissà che qui anche speranze su una conoscenza su una nuova conoscenza che magari è impegnata qua questa persona se ne va da sé ok quindi tutto sommato anche il mercoledì con fatica ce lo siamo portati a casa una settimana che sembra così senza grossi avvenimenti ma piuttosto impegnativa e dai con questi topi anche questa due le fasce nel senso parla di voi parla della vostra ansia parla di questo essere andati sempre più entusiasmandovi e poi i topi no non si sta verificando restate male e poi dopo si trova di nuovo la stabilità e si risolve quindi giovedì già potrebbe essere l'inizio di quei giorni in cui come abbiamo visto nel Petita Blue si recupera la situazione dopo scusate se non mi parte Siri dopo una situazione che vi ha lasciato un po' col fiato sospeso quindi già giovedì vedete che abbiamo ancora e anello proprio il ritrovamento della karma della serenità e soprattutto delle risposte rimaste in sospeso quindi se è un appuntamento mancato se è qualcosa come abbiamo visto sulla casa, sul lavoro restate un po' così da giovedì iniziano i giorni delle risposte però ben potrebbe essere anche che un problema finanziario dove magari pensavate di non avere abbastanza soldi viene risolto e si rientra in stabilità quindi è il giorno in cui magari o vi danno non so vi pagano degli arretrati vi arriva finalmente qualcosa che stavate aspettando vedete che poi alla fine le energie sono le stesse oppure qualcuno per esempio un genitore vi dà ciò che vi manca se avete la fortuna di avere questa possibilità no? è comunque qualcuno che è più grande o è più sopra quindi potrebbe anche essere magari un capo che brutta parola insomma un superiore pessimo anche questo ho visto qualcuno che può farlo anche sul lavoro quindi che compensa una mancanza e voi iniziate a colmare quelle lacune piene di topolini quindi piene di ansia che siete andati ad accumulare nella settimana va bene dai giovedì va bene ci manca solo qui si discute come potete vedere il partner litigioso che viene sbloccato e che però ha quasi voglia di bloccarlo un'altra volta questa è proprio una situazione molto precisa quindi hanno voluto proprio come dire lasciare poco spazio ad altre situazioni qui guardate una situazione fumosa che era rimasta bloccata in amore bloccata con anche un partner una persona che interessa che esce dal blocco quindi evidentemente qui era stata bloccata non vi stavate vedendo ci litigate ci litigate e si ritorna nella situazione di prima però io non è che voglia fare le differenze non avete colpa perché qui vi arriva questa persona con spirito polemico litigioso e senza nessuna voglia di fare chiarezza quindi sfido che l'avate bloccata anzi ribloccatelo subito perché tanto a che cosa vi serve una persona così qui non c'è spazio per altre situazioni siete sto venerdì allora tutte le cose belle carrucce sono successe qui se non ho contato male ci manca una croce sapete che ho questo brutto vizio ma le carte brutte ce le siamo già fatte fuori e questo venerdì si vede che tutto il resto ok però vi sta dicendo non abbiate dubbi a mandare a quel paese a rimettere dove era questa persona cioè dietro la montagna è uscita e vabbè fa niente cioè un attimo invertire le carte qui è proprio qualcuno di cui magari aspettavate lo sbloccate dopo insistenza dopo tanti ripensamenti e quando lo sbloccate ho detto ma cosa mi è venuto in mente torna dove sei venuto fino adesso e quindi perché viene proprio con l'intento polemico quindi anche no quindi l'amore purtroppo qui in più ci dice solo questa cosa è vero che ci ha detto tanto negli altri stesi il nostro mazzolino allora io ti sto aspettando neanche qui aiuto ah l'amore guardate qua guardate qua qui c'è proprio tutto tutto quello che si può volere questo sabato delle belle situazioni sincerità connessione frequentazioni nuove conoscenze e vivio vivio perché è come se fossero i puntini di sospensioni in realtà si lascia spazio anche alle situazioni fresche o alle situazioni magari che sono suscettibili di miglioramento non è così brutto questo vivio è forse quasi un vivio di stupore come dire come è possibile che mi senta così bene no è normale a volte soprattutto se si attraversano dei brutti periodi vero è che qui è anche se poi andiamo più nello specifico nel quotidiano un messaggio che ci lascia un po' in sospeso un messaggio sui social tra l'altro o da qualcuno che frequentiamo in modo non molto intenso ecco può essere qualcuno che frequentiamo ogni tanto sicuramente non è parte di tutta la vita o anche senza andare tutta la vita a parte di qualche mese quindi è tutto bello tutto sereno c'è soltanto questa cosina qui di questo messaggio potremmo ricevere un messaggio che ci lascia un po' in sospeso e in sospeso rimaniamo qui è quando viene utile la carta di fondo non per completare la stesa perché quello si fa solo in determinate occasioni però l'energia di questa carta sommata in abbinamento all'energia di questa stesa ci dice che è un restare in attesa ma positivo qui avessimo avuto una montagna restare in attesa con un senso di pesantezza invece questa è una giornata in cui chiariamo molte cose in cui restiamo quasi stupiti da come tutto sembra in armonia tutto sembra in accordo anche con la natura sapete quando le cose si incastrano tra di loro perfettamente è una giornata molto ben regolamentata c'è un messaggio che ci stupisce ci lascia un po' così a bocca aperta un po' nel dubbio se abbiamo capito bene o male ma che ci fa piacere quindi questa è un po' la chicca di questo giorno dove altrimenti come vedete abbiamo i gigli al centro quindi tutto bello limpido ecco per dire che non è noioso perché fortunatamente abbiamo il bivio sennò non più sabato sera con i gigli ma che stesa va bene allora la torre ecco domenica ah va bene meno male ragazzi perché io già io me ne ricordavo che c'erano queste tre allora la torre a me non fa paura la croce insomma fosse arrivata qui non è che proprio potevo dirvi con calma e buona domenica la serpe uff allora qui semplicemente mettiamo a posto una situazione pesantuccia dove si sono inaspriti o meglio irrigiditi i rapporti con qualcuno risolviamo una crisi con qualcuno perché riusciamo ad avere la meglio o su qualcuno che ha detto male di noi o che ci ha messo zizzania è comunque un quadrifoglio quindi magari si tradisce perché anche questo può voler dire oppure riusciamo ad alleggerire questa crisi e risolviamo il nostro mentale nel senso che questa situazione ha occupato a lungo i nostri pensieri un litigio un broncio di sapore e magari no qui è proprio qualcosa di più intransigente insomma la torre speravamo nel far pace con qualcuno e questa pace non arrivava insomma è qualcosa su cui speravamo che cambiasse qualcosa e qui abbiamo proprio i due sì quindi la chiave e il quadrifoglio la chiave risolve la croce quindi si elabora anche questa crisi si riesce a parlare con la persona con la quale la stiamo vivendo e finalmente un po' di leggerezza a fronte di questo mentale quindi questo è il far pace dopo una lunga discussione anche pacifica non importa come sia però insomma una lunga elaborazione del problema e dopo finalmente un po' di leggerezza quindi può essere leggerezza dopo un mentale quindi una discussione può guerra e pace insomma questo può essere sia la vittoria su questo peso che però poi porta a una bella soluzione può essere anche la vittoria su qualcuno che ha cercato di mettere zizzania e noi riusciamo a scalzare anche questa energia da questo rapporto quindi è una domenica un po' impegnativa ecco magari portarla a sabato che non succedeva niente forse era meglio però insomma potete scegliere lo sapete prima quindi se riuscite potete fare scambio di giorni come con i turni va bene allora anche questa settimana un po' strana questa settimana però con queste energie aspetta non aspetta arriva non arriva poi dopo recupero però poi i risultati arrivano anche questa settimana le soddisfazioni anche questa settimana domenica se riuscite questa roba fatela al mattino così almeno potete dormire per riposarvi perché qui è una cosa impegnativa per il resto che dirvi finalmente siamo arrivati a domenica quindi come sempre se vi è servito e vi è piaciuta questa stesa mi raccomando mettete il like iscrivetevi al canale attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto seguitemi su Instagram e su Facebook io come sempre vi auguro una splendida settimana vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic ciao